Allora, buongiorno, noi siamo dell'associazione Felice Complenti, un progetto nel quale confluiscono suonatori, danzatori, appassionati di musica e danza. Un progetto in continua evoluzione e l'obiettivo principale è quello di tramandare e divulgare quello che è il patrimonio couretico e musicale dell'area del Reventino Savuto. Sono sette anni che organizziamo a Conflenti questa manifestazione dal quale arriva gente da tutta Europa ad apprendere le nostre danze, i nostri canti e le nostre musiche. Ringraziamo Rubettino per averci invitato anche quest'anno. C'è una collaborazione ormai che dura da qualche anno e speriamo di rivederci di nuovo qui a Sciabaca il prossimo anno. Grazie a tutti!